Quella della Madonna Bruna di Materdomini del 15 agosto è una festa antichissima e si perde nella notte dei tempi ma ciò nonostante si conservano ancora forti segni di tradizione e devozione. A Nocella Superiore sorge il santuario dedicato alla Madonna di Materdomini ma la genesi di questa avvincente e sentita leggenda è stata motivo di studio e ricerca per lungo tempo un viaggio nelle tradizioni antropologiche profondamente radicate nell'immaginario popolare e intorno ad esse ruotano leggende tramandate nel tempo. La leggenda più comune narra che la Vergine apparve in sogno ad una contadina di nome Cara Marie. Durante queste visioni avvenute tra il 1041 e il 1060 la Madonna le chiedeva di scavare sotto la quercia ai piedi della quale la donna era abituata a riposare. Proprio lì, sepolto, fu ritrovato il quadro di una Madonna con bambino e così nel 1061 fu eretta la basilica in suo onore. Da allora a visitare il santuario per l'assunzione ogni anno si recano pellegrini da ogni punto della campagna e non solo. Arrivano già dalla vigilia, c'è chi ancora si attrezza con carri addobbati con fiori, nastri e fiocchi. Cantano inni sacri popolari e recitano il rosario. Le danze mantengono svegli e le preghiere si mischiano con le tamurre. E i canti tramandati oralmente non vi è scritto alcuno, ma da sempre e per tutta la notte accolgono la folla di devoti e curiosi. Sono canti che seguono un ordine ben preciso. I pellegrini, giunti dinanzi alla basilica, invocano che le porte del santuario si aprano per poter pregare e dare il buongiorno alla mamma celeste. Shin, shin, simunacon shin, arabre stuportun e l'invito che viene fatto ai frati francescani custodi della Mater Domini. Alla vista dell'icona i fedeli intonano il canto d'ingresso e delle implorazioni. Sono le richieste di grazia che chiedono a Maria. In passato anche questi erano il dialetto, ora invece vengono recitati in italiano. Poi, al nono giorno, ultimo della novena, dopo la messa dell'alba, i fedeli intonano l'ultimo canto che è il saluto alla Madonna. Un canto emozionante e caratteristico dove è possibile cogliere tutta la devozione e l'affetto nei confronti della Mater Domini. I fedeli indietreggiano lentamente dal tempietto che custodisce l'icona sacra, cantando la promessa di rivederla ancora una volta il giorno successivo e per quelli che verranno, sia in terra che in paradiso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.